La Gusa attacca da più 4, 59 e 55 Il 3.000 del Palominardi si fanno sentire Il Vila Relic per Der Wilson Alla giocata ancora su Masper Brian Debs deve essere da Compelle Si libera bene, sbaglia Poi cerca di conquistare il rimbalzo Lo ha fatto per qualche istante Poi Fabiano che va in contropiede La tripa di Fumagalli Non va, comunque palla controllata Dalla formazione ospite È rimasto a terra Masper E libera il suo uomo e realizza Benini, 12 punti per lui Potrebbe essere un'azione del più 6 per Ragusa Come sempre succede invece Fabiano si è portato da meno 2 59 a 57 13 e 20 alla fine di questo Quinto turno d'andata al Coneo di Serie 2 Bacchina la terra intanto Centro dell'aria Ragusa con Wilson in attacco Palla fuori per Debs che prova la tripla Palla che esce dall'anello letteralmente Il rimbalzo di Benini Sfortunata in questa azione Ragusa Ha avuto la tripla a Debs Spostando molto la difesa Bacchina rimane in campo Anche se è caudicante Ora recupera ancora un gran pallone Milan Relic Sottendolo a Fumagalli Vediamo se Bacchina rimane in campo Non è al meglio della condizione Ma dice che va tutto ok al suo coach Quindi rimane sul parche di gioco del Palamiardi 12 e 52 alla fine 59 Bacchina di Giove Di Ragusa 157 Fadiano con Der Wilson Che supera la metà campo per Ragusa Solito il proprio blocco di Ragusa Che apre il barco a Wilson Come abbiamo più volte detto Nini è un gioco che piace molto a Wilson Ha trovato ancora molto il barco giusto Sì, appunto questo pick and roll Dove lui ha la possibilità di penetrare O di tirare in base a quello che comporta nella difesa Ora Ragusa ha recuperato palla Ma la perde nuovamente Fumagalli tira da tre punti E trova subito il tiro pesante Potrebbe essere la fuga di Ragusa Invece Fabiano ha un punto solo Aveva recuperato palla ancora Wilson Contro il piede di Ragusa e non si è chiuso 61 a 60 Sarà appunto appunto come ha detto Bernardi Ai suoi poco fa Ora Wilson resta il tiro Palla sul ferro C'è il fallo poi di Milan Relic Che ha tratto di recuperare palla da Tergo Fallo di Relic e time out di Giannino Lambruschi Sentiamo ancora Bernardi in questo incontro Banca e due popolare di Ragusa Zara Fabiano Noi abbiamo bisogno di controllare il giro E contro piede E contro piede Stanchi loro Andrì abbiamo solo due o tre canessi Ma due o tre difesa Siamo pronti? Siamo ragazzi Ha detto prima cosa controllare la partita adesso Perché la partita è in questo momento E potrebbe essere decisivo per il risultato finale Poi di controllare Wilson Tutti aiutare su Wilson Wilson non deve segnare Magari segnare gli altri ma non lui Dipendere tutti a rimbalzo e contro piede Fatto sbagliare il tiro dall'angolo Forti E probabilmente anche quest'oggi Wilson Con i suoi 27 punti E il giocatore da marcare in modo particolare Soprattutto più luce Bacchinal Ma tutti devono aiutare sul giocatore Ragusa Nora Debs Perde un pallone In attacco e stanco E c'è un cambio E' pronto Enrico Burini sulla sedia dei cambi Vediamo il posto di chi entra Enrico Burini Fumagalli intanto supera la metà campo Per Fabriano Bacchinal Ancora Bacchinal Su Luce Pigliaffreddo A doppio Palla scaricata su Benini Benini Fasticcia un po' La giocatore ancora per Fumagalli Pelle Infrazione di passi di Pelle Che era stato chiuso bene Dalla difesa di Ragusa Costetto all'infrazione di passi di Pelle Enrico Burini intanto ritorna in campo Da affiato a Milan Relic C'è stato importante la porta di Milan Relic 9 punti 1-2 triple Trampene nella ripresa Ora ritorna in campo Burini Burini-Wilson Solito doppio blocco Picchiarrollo Mi dice Giocata vincente per Ragusa Come ha detto più volte Minigelli Questa volta la palla Arriva su Brandabbs Fallo di Benini Che spinge Brandabbs 61-60 10-49 Alla fine Il terzo fallo personale Per Benini Che ha realizzato Finora a 12 punti Penso in attacco Per Ragusa Debs Lasciato solo Va al tiro Lo sbaglia Rimbalzo di Pigliafreddo Masper Canestro buono E aggiuntivo Importante canestro Di Masper Debs è stato quasi sfidato Al tiro Lo ha sbagliato Rimbalzo di Pigliafreddo Dato palla A Masper Canestro importante Azione possibile Da 3 punti E quarto fallo Di Benini Diciamo Azione importante Per Ragusa Quarto fallo Di Benini E possibile azione Da 3 punti Per Christian Masper Non per lui 6 punti Diventano 7 Ragusa Ha nuovamente 4 punti di vantaggio Il massimo Della ripresa Il massimo Anche in assoluto Il 4-0 iniziale Ebbene ha avuto Invece anche 11 punti di vantaggio Forti Con un fischio Fallo di Debs Su Pelle Entrambi le squadre Hanno commesso 4 penalità In questa ripresa Naturalmente esce Benini Che ha 4 falli Allo suo posto Ritorna in campo Morena E' il primo fallo Per Brent Debs Morena Ritornato in campo Fumagalli Pallone per Forti Che fa saltare Il suo avversario Realizza 4 punti per Forti 2 per tempo 10 minuti E 10 secondi Alla fine Del match 64 Banca Popolare Di Ragusa 62 Fabriano Togliamo Dal Palaminardi 4 punti di vantaggio Forti, Wilson che ha tre falli Palla che arriva su Fumagalli Tanto per il tizio Burini Tira dalla distanza e trova la bomba Ora Morena 11 punti E sorpasso Nuovo sorpasso della formazione Ospite 64 a 65 Wilson Palla dentro per Debs Canestro annullato Il fischio è arrivato già prima Più nella conclusione di Brand Ebs Messa in attacco per Ragusa Deru Wilson Intanto è il terzo fallo anche per Capitano Forti 65 Fabiano 64 Popolare Ragusa 9 e 28 alla fine del match Debs Gioco fuori su Deru Wilson Burini Palla giocata suori su Debs Ancora Wilson Raddoppio C'è il canestro ancora di Deru Wilson Mimico si è cambiato in difesa per Fabiano Non ho sentito quello che hai detto Comunque volevo segnalare Che probabilmente Fabiano Ha cambiato difesa Passando dalla difesa collettiva Appunto dalla difesa Come contro l'uomo alla difesa zona Infatti era quella proprio la domanda Intanto ha segnato ancora Wilson E' andato a quota 29 E c'è ancora un fischio albiettale Che interrompe l'azione Atacco di Fabiano Infrazione i passi Di Morena Che non è d'accordo Rischia il fallo tecnico Morena Ragusa nuovamente con Musavanti 66 a 65 Burini Per Deru Wilson Finora per Wilson 29 punti personali E' già superato il record di domenica scorsa E' già superato il record di domenica scorsa E' già superato la quota 28 8 e 44 alla fine Già è terzo nella classifica di marcatore di A2 Deru Wilson Dubs Ma gioco fuori per Burini C'è una moto ragionata ora di Ragusa Masper per Wilson C'è una tripla Pinta Poi invece Dubs che va al tiro da 3 Non va Aveva pintato da 3 Wilson E poi c'è il contropiede di Bacchina Affermato in modo falloso Dalla difesa di Ragusa Ragusa poteva portarsi Il momento a più 4 Ha trattato la tripla Wilson Poi invece ha servito Dubs E' un po' in difficoltà la difesa Comunque il tiro di Dubs è entrato E c'è invece Bacchina in lunetta Per due tiri liberi E' buono il primo 23 punti Ancora perfetta parità 66 pari 8 e 23 Alla fine del match Punto a punto In questo secondo tempo Mette ancora il muso avanti Fabriano 67 a 66 Più uno per la formazione ospite Qui al Palamiardi Banca popolare di Ragusa In attacco con Burini Masper ancora Burini Giocata la palla su Piafreddo Dubs Bel pallone dentro per Wilson Non riesce a realizzare da sotto E' stato buono Il servizio Wilson Questa volta non è andato a canestro Allora attacca Fabriano Da più uno 7.50 Alla fine Recupera palla ancora Ragusa Con Wilson In contropiede Gio contro uno Wilson Sbaglia da sotto Ancora un errore Di Derry Wilson In contropiede Fumagalli Inflazione di passi E gli arbitri Se ne accorgono Ancora Inflazione di passi Ancora un giocatore esperto Come Fumagalli E' stato colto In questa inflazione Fatto Entra in campo Capitano Cassì Non aveva ancora giocato Quest'oggi Il capitano Dei Ragusani Fatto è rimasto a terra Wilson Dopo il canestro sbagliato Dei Wilson E' rimasto a terra Ragusa ha dovuto Mettere dentro in campo Peppe Cassì Per Dei Wilson L'infortunio A 7.37 Alla fine Per Dei Wilson Ragusa Ha dovuto Mettere dentro Cassì Per Wilson Finora per lui 29 punti E' il dottor Rabito Che va A sincerarsi Delle condizioni Del giocatore ragusano C'è anche Totò poi domani Butta tegola Per Ragusa Quando mancano ancora 7.37 Alla fine Ragusa E' prio di Wilson Dentro Capitano Cassì 29 punti Per Wilson Finora 7.37 Alla fine Burini Tassì al suo soldo In questa gara C'è ora Ancora Debs Che perde un pallone Banalmente in attacco 67 Fabiano 66 Per Ragusa 7.22 Alla fine C'è ora Fumagalli Che imposta Per la formazione Fabiano Siamo entrati Siamo entrati Negli ultimi Sette minuti Pelle La gioca fuori Per Morena Sfiduce Mas per Fumagalli Ancora Bacnal Sfidio subito La difesa Contro di lui Va al tiro In questa occasione Realizza Forti 6 punti Per Forti E Fabiano Va a più 3 69 66 7 minuti Alla fine 6.50 Adesso Sì La seconda azione Che Fabiano Ha cambiato Nuovamente Difesa Tornando Alla Individuale Ragusa Che ora Prova A ritornare A canestro Burini 10 secondi Per andare Al tiro Trova La tripla Centrale La trova Enrico Burini Il Gino Bernardi Cerca di Comischiare le carte Alternando La difesa Ora Morena Che da palla La Pumagalli Rischia di perdere La Pumagalli 69 Pari Capitan Forti Va al tiro E realizza 4 punti Importanti Di forte In questo Momento Della gara Fabiano Ancora avanti 71 A 69 Ragusa Che è Prima di Wilson Accomandato Fuori dal campo Der Wilson 6 minuti Alla fine Tutti a freddo Per Masper Masper Si fa rubare Palla Da Bucknell C'è Pelle Che va A schiacciare Sbaglia C'è un fallo Come la difesa Ragusana Con Peppe Cassi Avete dato La schiacciata Pelle Sbagliata Un fallo Della difesa Ragusana Con Peppe Cassi 71 A 69 Settimo fallo Di squadra Per Ragusa Contro i 5 Di Fabriano Sbaglia Sbaglia completamente Il tiro libero Pelle Non è stato Una grande serata Per il giocatore Americano Di Fabriano E il giallo Il secondo Va a quota 3 Ora per lui 3 punti 2 nel primo tempo Non ha segnato Dal campo In questa ripresa 72 A 69 Più 3 Comunque Per Fabriano Tentato la tripla Burini Non ha sbagliato Comunque La rimessa E per Ragusa Ha tornato ancora La tripla Del pareggio Enrico Burini 5 a 36 La fine 72 A 69 Masper Per Pigliafreddo Ancora Burini Ragusa Che è più A di Wilson Già dovuto affrontare La gara Senza coltellacci Burini Ora fuori Per Masper Milarelic Quanto è tornato In campo Palla su Debs Gancio di Debs Non va Si lotta sotto I tabelloni C'è un fallo Attribuito alla difesa Di Fabriano 5 a 17 Alla fine Del match Il quarto Fallo Di Pelle Tanto Derry Wilson Miracosamente Ritorna in campo C'è abituato A questi recuperi Velocissimi Derry Wilson Addirittura Due anni fa A Livorno Era uscito in barella Si è rialzato E è ritornato in campo Del Wilson Per Milan Relic Ragusa che ora dentro Burini Wilson Debs Pigliafreddo E Masper Usa in attacco 5 a 17 Alla fine Ragusa ha dovuto giocare Due minuti e mezzo Senza Wilson E comunque ora è ritornato In campo Debs fuori Per Burini Enrico Burini Ancora per Wilson La scarica fuori Per Burini Che è finita da tre Poi ancora Wilson Che prova la tripla E la trova Gary Wilson Ritornato in campo Due minuti e mezzo Ha trovato subito Il canestro Della parità 72 pari Incredibile Questo giocatore 72 pari Wilson Terminato L'azione D'attacco Di Ragusa Là c'è il Canestro annullato A Bacchinal Noi d'accordo Bacchinal Ha tristato Prima dell'azione Di tiro Visce Taurino Infrazione Della difesa Di Ragusa Quindi Canestro annullato Due tiri liberi Per Ragusa Il secondo fallo Intanto per Werther Pigliafreddo Due tiri per Bacchinal Infatti Ragusa Ha già raggiunto Il bonus Realizza Bacchinal Potrebbe essere Un'azione Da tre punti Visto che Bacchinal Ha realizzato Il primo tiro libero Realizza anche Il secondo Ancora più due Per il quintetto Di Fabiano 74 da 72 D'ora i minuti Pi' importanti Di ogni incontro Gli ultimi cinque Ragusa È sotto i due 74 Fabiano 72 Banca di Giro Popolare di Ragusa 4 e 35 Alla fine Masper Debs Trova la tripla Debs Non la trova Ancora un errore Di Brandebs Quarto errore Consecutivo Molto da lunetta Tre dal campo Va al tiro E invece Sbaglia completamente Dall'altra parte Morena Morena Comprende anche il ferro Morena Momenti Dicevamo Importanti La gara 4 e 14 Alla fine C'è il Time out 74 Fabiano 72 Banca di Giro Popolare di Ragusa 4 e 14 Alla fine Alla fine Sentiamo cosa dice Virginio Bernardi Ai suoi ragazzi Lascia stare il tuo uomo Ma quando giudono di qua Laro Te la puoi rubare Quella brutta palla Che ci danno dall'altra parte In attacco Giochiamo la palla In mano a Fumagalli Organizzare il gioco O contropiede Contropiede Andiamo Non prendiamo E ha detto Di giocare bene in attacco Di non fare stupidi tiri Di giocare con Organizzato Con palla a Fumagalli O eventualmente il contropiede E di difendere Su Wilson Tutti Un occhio speciale Per Wilson E Wilson Che poi Rapporta Palla avanti Per Ragusa Ha già realizzato 32 punti Ha stato assente Due minuti e mezzo Per l'infortunio Wilson Subito raddoppio Su di lui Scarica su Masper Masper palla dentro Per Debs Bell'assist Bellassist per Pigliaffreddo Sul raddoppio Pigliaffreddo si è liberato Primo canesso al campo Per Werther Pigliaffreddo Ancora perfetta parità 3.48 La fine 74 pari Morena Fumagalli Fumagalli Bacchinal Fallo di Wilson Altra brutta Tegola per Ragusa Il quarto fallo Personale Per Der Wilson Der Wilson Cercava di rubare Palla Invece è stato colpo In inflazione Quarto fallo Per Wilson L'uomo per lui 32 punti Manda in lunetta Forti Che realizza Il suo primo libro Spezza ancora L'equilibrio 75 Fabiano 74 Ragusa Capitano realizza Anche il secondo Un po' di fortuna Di Vain Doppia cifra Quota 10 3.38 La fine 74 Popolare di Ragusa 76 Fabiano Qui a Palla Minardi La quinta D'andata Del torneo di Serie 2 Di basket maschile Wilson Raddoppio Come sempre Su di lui Debs Burini 10 secondi Per andare al tiro Per Ragusa Burini In entrata Fallo su Burini Prima della conclusione Comunque la palla Non è entrata dentro Due tiri Per No ancora no Non c'è il bonus Per la formazione ospite Infatti Il Quarto fallo Comunque Per Fumagalli Palla giurata fuori Su Wilson Ancora Settimo fallo di squadra Per Fabiano Nell'ottavo Der Wilson Su di lui c'è Bacchina Allora Prima battuta Scarica su Debs L'entrata Bacchina 1 contro 1 1 contro 1 1 contro Pigliafreddo C'è il fallo di Verta Pigliafreddo La manna di lunetta Bacchina 2-32 Alla fine del match 76 pari Terzo fallo per Pigliafreddo 2-32 Alla fine Bacchina 26 punti Per lui Realizza La quota 27 77 Fabiano 76 Ragusa Sbaglia Sbaglia il secondo Prima ferro per uscita Tacca ancora Fabiano Due minuti alla fine 77 76 Bacchina Contro Pigliafreddo Pallone Di Toschina Per Fortin Gancio E corto Sbaglia completamente Forti Questa conclusione Ragusa Con Wilson Che va al tiro C'è un fallo Non c'è il canesto Due tiri liberi Per Dele Wilson 100 secondi alla fine In Igeb Partita attiratissima Come era nelle previsioni Adesso È perfetto Equilibrio Ragusa Ha la possibilità Di andare avanti Di uno Con questi due tiri liberi Di Wilson Quindi Credo che sarà così Fino all'ultimo secondo Infatti è uscito Morena Per Quinto fallo Il primo giocatore A lasciare il campo A 1.43 Dalla fine della gara Quinto fallo Per Morena In lunetta C'è Dele Wilson Finale per lui 32 punti 77 Fabiano 76 Popolare di Ragusa Dele Wilson Finale Il migliore In assoluto Con 32 punti 21 nel punti Il primo tempo Ancora Perfetta parità 77 pari Con il canestro Realizzato da Der Wilson Comodo Naturalmente fermo 1.43 Alla fine È buono anche il secondo E' chiaro che anche L'esperienza dei giocatori Deve pesare Fumagalli Ha trovato subito Modo di Cambiare il ritmo Di accelerare un attimo Per Costringere Magari Burini E andare in lunetta Con i due Liberi Comodo che realizza Solo un canestro Quindi siamo in perfetta Parità 78 pari Canestro controllato Poi rimbalzo Contrato da Ragusa Che ora attacca A 1.24 Alla fine Tutti in piedi Qui al Palaminardi 78 pari Ragusa aspetta La prima vittoria interna In Serie A2 In matricola Del torneo La formazione Della popolare Di Ragusa Wilson Si è subito Il raddoppio Si è subito Una gabbia Si libera Masper E poi commette In frazione I passi Aveva dato Un grande pallone Wilson Per Masper E ha sciupato Tutto Ragusa Siamo nell'ultimo Minuto 78 pari Palone importantissimo Di Ragusa Ora Bacchinal La gioca fuori Per Benin Forti Fumagalli 45 secondi Alla fine 78 pari Bacchinal Si aiuta Un po' Bacchinal Sbaglia Avventa ancora Il rimbalzo E realizza Aveva sbagliato In questa occasione Bacchinal Ma poi ha beccato Il rimbalzo Portando ancora La squadra Avanti 82 80 78 33 secondi Alla fine 78 Ragusa 80 Per la Popolare C'è ancora Un fallo Su Der Wilson Solo il fatto Il quinto fallo Di Forti 80 78 Sentiamo Cosa dice Bernardi Ai suoi ragazzi Vantano 25 secondi E' il 72 centesimo Alla fine Un blocco Per voi due Lui fa la rimessa Lui fa la rimessa In attacco Se giochiamo L'ultima palla Giochiamo Testa Andiamo Per Gli ultimi 5 secondi Si tira Non ci allontaniamo Dalla palla Se sbaglia E anche quelli E anche quelli E anche quelli E anche quelli molto precisi Ai dire liberi Wilson Ha messo dentro Il primo 80 79 25 secondi Alla fine Naturalmente Con un voto Fermo 80 79 Wilson Nella palla 22 22 96 Seconda la fine Il quarto fallo Di Debs 80 79 Lambruschi Lambruschi aveva tentato Qualche Cambio Nini Cosa sta succedendo Lambruschi Voleva mandare in campo Appunto Bonsignori Per Burini Probabilmente Per avere anche Una supremazia In questo Momento In fase di rimbalzo Sui liberi di pelle Perché è importante Che Ragusa Recuperi sta palla Pelle Ha segnato Un tiro libero Precedentemente Però Potrebbe anche Sbagliare Di conseguenza Lui vuole avere La superiorità Sul rimbalzo E Poi è stato autorizzato L'ingresso in campo Di Bonsignori Per Burini Pelle in unetta Realizza il primo A quota 4 Fabiano A più 2 81 A 79 Mancano 22 secondi Alla fine Pelle in unetta Per Secondo tiro Lo realizza Ragusa Attacca da Meno 3 23 secondi Alla fine Wilson Subito Su di lui In attacco Bucknell 15 secondi Alla fine Wilson Intenterà Probabilmente Il tiro da 3 82 79 10 secondi Alla fine Non prova Ancora il tiro Lo fa in questo Momento E ci sono Tre tiri liberi Su Der Wilson 3 E 98 Alla fine C'è il fallo Di Pelle 3 E 98 Alla fine Der Wilson In unetta Per 3 Tiri liberi Wilson Che è rimasto a terra E il quinto fallo Per Pelle A 4 secondi Per dentro Alla fine 3 E 98 Manda in lunetta Der Wilson Per i 3 Tiri liberi Naturalmente C'è il time out Vediamo Così dice Bernardi Ai suoi ragazzi 3 E 98 Alla fine 82 A 79 Ok They must shoot 3 times Now we lose one Ok Go for defense rebound You and You and Steve And the kid Ok Help everybody If they score Steve All the bound Give the ball For Fumagalli Ok Also you Stay If they score 3 You go in the corner For shot 3 Ok Facciamo così Fumagalli Hey Tu qua Fumagalli Hey Fumagalli Fake and go Ok You give the ball Here Over here And there Ok And nobody on this side Yeah Only Fumagalli Only Fumagalli Open this side Go Come L'effetto Dei tiri liberi Dei tiri liberi Che possono dare la parità a Ragusa Bernardi ha detto Che in tre a rimbalzo Gli altri pronti Dato un giocatore L'ingarico della rimessa Fumagalli Fumagalli dovrebbe fintare di ricevere Scappare in contropiede per prendere il passaggio lungo Tanto Wilson va al primo tiro libero Lo mette dentro Ne ha disposizione altri due 82 Fabriano 80 Ragusa Mancano alla fine Tre secondi E 98 centesimi Wilson Silenzio glaciale Realizza il secondo 82 Fabriano 81 Ragusa 37 punti per Daryl Wilson Nelle mani La palla del pareggio E non lo sbaglia 82 pari Tiro di Benini E si va ai supplementari 82 pari Si va al supplementario 82 pari Qui al Palaminardi Pallo Bacchinal Praticamente L'unico terminale in attacco di Fabriano Come dall'altra parte E Wilson per Ragusa Si è trovato un canestro importante Ha subito anche fallo Porta la sua squadra A più due E costringe Puglia Freddo al quarto fallo E va in lunetta 84 82 Bacchinal Realizza più tre Per Fabriano Puglia per Ragusa Con il tiro pesante Di Wilson Invece Fabriano Andrà avanti Nel punteggio 4-11 Alla fine di questo Tempo supplementare Masper Ragusa dentro Wilson Burini Masper Lugia Freddo E Debs Ancora Sciuppa palla Ma la recupera poi Burini C'è il fallo Di Forti Forti E al suo quarto fallo personale C'è un errore nel tabellone centrale Che ha invertito Morena E Forti E' uscito a 1.43 E alla fine Infatti Morena Per 5 falli Forti Al suo quarto fallo personale Canestro Dalla lunetta Intanto per Burini Va a 4-11 85 Fabriano 83 Popolare Ragusa Sbaglia il secondo Burini Loro importante A 3-55 Dalla fine Nel primo tempo Sperimentale Magalli Palla su Capitan Forti Ancora Dentro per Benini Che la perde Ragusa Può andare Al testo del pareggio Burini Ancora un fischio C'è il fallo Prima del tiro 85 83 C'è il quinto fallo Anche di Fumagalli Questa è una Notizia importante Per la gara In Ijebi In Ijebi Fumagalli è importantissimo Anche se Malve ha giocato bene Nel primo tempo Al di là Della prestazione Individuale Che può essere Più o meno positiva Fumagalli è un giocatore Importantissimo Nell'economia Nel gioco della squadra Nell'impostazione Nella sagacia Nell'esperienza Nel gestire la palla Nel cambiare il ritmo Alla partita Per cui per Ragusa Questo è un grosso vantaggio Vedremo Se riuscirà a sfruttare Fumagalli ha segnato Solo uno Dei due tiri liberi 85 Fabriano 84 Per la popolare Di Ragusa Naturalmente Malve ora va A sfondare L'arbitro Lo graziano Poi c'è ancora un fischio Stavolta il pallo è di Masper Un po' dubbio Burini Poi l'arbitro E' un rialziato Sotto il fallo Subito da Forti Che realizza Va a quota 11 Forti che gioca Con 4 falli 11 punti Per il capitano Nella formazione Ospiter Diventano 12 Più 3 Nuovamente per Fabriano Sempre avanti Questo overtime 87 84 3 17 Alla fine Burini Portano il doppio blocco Dubs Se Pigliaffreddo Palla Arriva Maier Intanto è ritornato in campo Al posto di Masper Maier Palla ancora Giocata su Pigliaffreddo Resto il tiro per Pigliaffreddo Errore Importante Di Ragusa In questa Azione Poi Robinson Michele Per poco non perde Palla Simentato negli ultimi 3 minuti 87 84 Non riesce a passare In 10 secondi La metà campo Malvey 87 84 2.48 Alla fine Wilson Per Ragusa Porta Palla 2.40 Alla fine Dell'Overtime La gara Si racchiusa Sull'82 Pari Maier Ancora Wilson 2.30 Alla fine Resto il tiro di Wilson Palla lunga Palla lunga Palla lunga Palla lunga C'è un fallo A rimbalzo Sul canestro Sbagliato Di Der Wilson 2.25 Alla fine Dell'Overtime 87 84 Pronto di tornare in campo Relic Conosciti Pigliapreddo E Maier In campo Bonsignori E Rielic Per questi ultimi 2.25 Del primo Overtime In lunetta C'è Benini 87 84 Fabiano Può allungare Già più 3 Due tiri Per Benini Che mette il primo Qua quota 13 88 84 Più 4 Per Fabriano Realizza anche il secondo Più 5 Era per Fabriano 2.25 Alla fine Burini E Rielic Contemporaneamente in campo Wilson Sono tre i piccoli Debs E Bonsignori Era in errore Ancora in attacco Di Ragusa 2.11 Alla fine Non riesce A trovare il canestro In questo Overtime Ragusa E c'è ora Il Canestro Di Robinson C'è time out 2.05 Alla fine 91.84 Allunga Fabriano Vediamo cosa dice Bernardi e i suoi Fabriano Più 7 2 minuti E 5 secondi Dalla fine Del primo Tempo Sperimentale 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 Play more strong Now if they make the ball against you You score easy free throw Ok Don't push Go in the side where it's free No problem After that we arrive Call one offence move It's a better horn Because it's more open And play Benini number 5 If you need Benini help Hey Hey You stay with the downs Ok Bonfignore Non può tirare Go Go Benissimo Si riprenderà Con la formazione Ospite In lunetta Per l'aggiuntivo 91 A 84 Uscito per Ragusa E intanto anche Maier Per Quinto fallo Sbaglia Sbaglia l'aggiuntivo Robinson Che ha sentito solo i due punti Proprio pochi secondi fa C'è il fallo su Wilson 1,59 la fine Quello che cercava Wilson 91 A 84 1,59 la fine Del primo supplementare Terzo fallo personale Per Bucknell Il migliore Sicuramente Dei suoi Con 32 punti Personali Wilson Sbaglio ora anche Dalla lunetta Wilson Stanco Resetto 38 punti Wilson Pausa del pubblico 91 84 Secondo tiro Per Wilson Lo mette dentro Fa quota 39 Fabiano Più 6 Malve Sotto l'assenza Di fumagalli Fabiano Suopla Nella punteggio In questo overtime Palla su Bucknell Manca a dirlo Fuori per Robinson Situisce Cambridge Ancora Bucknell 1,39 la fine Giocata palla su Benini Che si libera di Tanto tre errori A rimbalzo Di Fabiano Che poi trovano Il canestro Incredibile Non si possono concedere Quattro rimbalzi In attacco A Fabiano Con i pivot Di Ragusa assente Quattro rimbalzi Consecutivi Di Fabiano Poi Hanno lasciato Anche realizzare E c'è anche L'aggiuntivo 93,85 E completamente assente Nini In questa azione Ragusa rimbalzo Sai Quando tu ti trovi Ad andare Quasi di rincorso Nel senso che Loro sono andati Al tiro da sotto Tu salti quasi in ritardo E' chiaro che Il primo a ricadere E' il tiratore Per cui si trova Già in una situazione Di vantaggio Rispetto al difensore E così è stato Per tre voti di seguito C'è la possibilità Per Robinson Di andare anche All'aggiuntivo Fabiano ha già Otto punti di vantaggio 1,29 Alla fine 93,85 Robinson Robinson per questo Aggiuntivo 1,29 Alla fine La gente già Sta cominciando A lasciare Il Palamiardi 8 punti di vantaggio Per Fabiano Sbaglio Mi sbaglia Ha due tiri liberi C'entra il primo Purini 13 punti 93 Fabiano 86 Per esempio 87 Per Agusa Meno 6 1,22 Alla fine Malvey Si produce Wilson Che ha quattro falli E commette il quinto Così dicono gli arbitri Esce per Aggiunto il limite di falli Anche Wilson A 1,19 Esce anche Wilson Che ha realizzato 39 punti personali Entra Cassì 93,87 Un fallo Che penalizza ancora Ragusa Oltre a mandare in lunetta Malvey Che realizza Per Malvey Il primo punto Personale 94,87 Più 7 Per Fabriano Aspetta più 8 Fabriano Che in questo secondo tempo Nonostante ben tre assenze Per fallo Ora intanto C'è Relici Che realizza Indisturbato Stando sempre avanti Nel punteggio Ora c'è il fallo Di Burini Su Malvey Poco fa Ha realizzato Entrambi i tiri liberi 1,11 Alla fine 95,89 Quinto fallo Anche per Burini 1,11 Alla fine Il tono in campo Pigliafreddo 95 A 89,11 Alla fine Naturalmente Arambuschi Ovviamente aveva chiesto A ragazzi Di fare sempre fallo E con un po' La fortuna Questa volta Malvey realizza Tre punti Per Il giocatore Comunitario Di Fabriano Entrano 4 Tutti dalla lunetta Con un 4 su 4 Più 8 Ancora per Fabriano Relici Da 3 Non va Un balzo di Malvey Contropide su Forti Rallenta il ritmo Fabriano Poi ancora Malvey Palla su Robinson Mantiene posizione La sfera Forti Per Bacchinal 50 secondi Alla fine Dell'overtime Bacchinal C'è il fallo Adesso annullato 48 secondi Alla fine Ormai È davvero In crisi Ragusa Malvey Ancora in lunetta Un 4 su 4 L'assenza di fumacare Doveva essere decisivo Invece Lui è stata Sicuramente Un positivo Per Fabriano Nini Beh Diciamo che A parte Quelle forzature iniziali Di Malvey Quando era entrato Per la prima volta In campo Adesso Wai per L'aiuto degli altri compagni Lui ha gestito Ha gestito bene Questi palloni Adesso non è che È uscito Fumacalli E ha avuto la meglio Fabriano Anzi Precisi Infatti è uscito anche Pigliafreddo E per Ragusa Deve giocare anche Buonanno 5 giocatori di Ragusa Usciti per falli Benini In lunetta Va a quota 15 Sconfitta pesante Per Ragusa Sicuramente meritato Dopo aver costretto All'overtime Fabriano Relic In entrata Va a realizzare Milan Relic Va a quota 13 28 secondi Dalla fine 101 a 91 Siamo negli ultimi 25 secondi Ancora gioco interrotto 101 a 91 Sconfitta pesante Di Ragusa Che come detto L'aveva costretto Al Overtime Fabriano Sull'82 pari Ancora un giocatore Che esce per 5 falli E anche Relic Ragusa Rimane in 4 Ragusa rimane in 4 Il sesto giocatore Adesso è uscito No, corre Il tabellone Indica ancora Il quinto fallo Di Relic Infatti Ragusa Rimane in 4 C'era stato qualche momento Di discussione Ora Malve va in lunetta Ragusa Che age dentro Il giovanissimo Bonanno E da soli 4 giocatori Debs Bonsignori Cassi E Bonanno Malve sbaglia Quando mai la gara è andata Al settimo tentativo A 6 su 7 Dalla lunetta Sbaglia anche il secondo Si è scaricato 101 a 91 20 secondi alla fine Cassi Tira da 3 Il capitano Non va Rimbalzo di Fabriano Bucknell 10 secondi alla fine E anche Fabriano Quindi passa Al Palaminerdi Forti Tira dall'angolo Da 3 Non va Rimbalzo di Bonanno 5 secondi alla fine Bonanno In entrata Va a prendersi Uno stoppone Da Robinson Non c'è fallo E finisce 101 a 91 Vince Fabriano Al Palaminerdi Così come Abbiamo fatto Biela e Montecatini Questa volta Ragusa Ha Possetta L'overtime Fabriano Comunque ha vinto Meritamente Beh alla fine Fabriano Ha sfruttato Diciamo Meglio Questo tempo supplementare Nell'arco Partita C'era stato Un inizio Positivo Per Fabriano Che poteva Acquisire un vantaggio Considerevole Ragusa è stata brava Ad annullarlo Nella fase finale Nel secondo tempo Con i risparmi In equilibrio Ragusa ha trovato I tre tiri liberi Di Wilson Che l'hanno portata Ancora in parità E quindi all'overtime Dove Ragusa Forse è arrivato Con Indebito d'ossigeno E Fabriano Che è potuto meglio Distribuire i propri giocatori A decisione di Bucknell Che è stato sempre in campo E peraltro Credo il migliore In campo Assieme a Wilson Ha sfruttato appunto La panchina più lunga Grazie ai nostri operatori Le ricordo Peppo Ceruto Giorgio Giumarra Regia è stata Di Danilo Portella Appuntamento Fra due settimane